Buonasera, buonasera e bentornati su Ticino. Il TICS, Telecosasmeralda e il Magazine, quante volte abbiamo sentito soprattutto l'estate scorsa dell'opportunità per tanti giovani lavoratori, magari stagionali e anche abbiamo sentito poi gli albergatori che non riuscivano a trovare personale. Questa proposta l'abbiamo anche riscontrata negli ultimi mesi, la Regione scende in campo con 800 euro per le aziende che assumeranno personale nell'industria turistica isolana. Quindi il nostro principale motore di ricerca è questa appunto la nuova proposta della Regione Sardegna per sostenere tutto il comparto. Andiamo a vedere i dettagli. La Regione Sardegna sostiene le imprese turistiche dell'isola. L'aiuto prevede un bonus fino a 800 euro alle aziende che assumeranno personale. Obiettivo dell'iniziativa è sostenere l'industria turistica isolana riducendo il costo del lavoro, ma anche aiutare le realtà del settore nell'acquisizione di quelle figure professionali fondamentali per la vita delle attività. Problematica questa che negli ultimi anni sta avendo una valenza rilevante per la difficoltà degli imprenditori nell'assumere la forza lavoro. Il turismo è un potente motore per lo sviluppo sostenibile della nostra terra, a condizione che si crei un ambiente favorevole alle imprese. Il comparto turistico può svolgere un ruolo importante nella ripresa dalla pandemia. Così il Presidente della Regione Cristian Solinas ha commentato la delibera approvata nell'ultima seduta di giunta su proposta dell'assessore del lavoro ad Allai, che destina oltre 17 milioni per l'erogazione di bonus occupazionali per il 2022 a favore delle imprese della filiera turistica operanti nel territorio regionale. Sulla stessa linea donna l'assessore del lavoro ad Allai un'altra misura della giunta regionale per contrastare gli effetti della crisi pandemica. Il settore turistico è stato uno dei più colpiti dall'emergenza sanitaria e più penalizzati, sono stati proprio i lavoratori stagionali del comparto. L'assessorato del lavoro interverrà tramite l'avviso nominato Destinazione Sardegna Lavoro per l'annualità 2022, che sarà pubblicato a breve. L'aiuto consiste in una sovvenzione proporzionata alla ritribuzione mensile lorda dei neoassunti, giovani al di sotto dei 35 anni d'età e disoccupati di lunga durata e di età superiore ai 35 anni in particolare donne. Si prevede che le assunzioni vengano fatte con contratto a tempo determinato della durata di almeno un mese o a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. Più specificamente per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Entrando nel dettaglio, 200 euro per la ritribuzione compresa nella fascia tra 500 e 1.000 euro, 400 euro per la ritribuzione compresa nella fascia tra 1.000 e 1.500 euro, 600 euro per quella compresa nella fascia tra 1.500 e 2.000, 800 euro per la ritribuzione superiore a 2.000 euro. Turismo, turismo sempre in primo piano, visto come un calidoscopio dalle mille sfumature, tornando a stare su Cagliari, in questo caso ma complessivamente tutta la Sardegna, il capoluogo conquista estimatori, si conferma una delle mete più gettonate dell'isola, soprattutto attira tantissimi turisti stranieri, mare, sole, collegamenti aerei, il porto, tanti servizi, vita notturna. La conferma arriva anche da uno studio di Conf Commercio che ha analizzato i 120 comuni italiani meglio grandi e ha cercato di stilare una sorta di report su cosa piace di Cagliari. E allora, scopriamolo. Cagliari sempre più città turistica, la pil del capoluogo cresciuto in questi ultimi anni attira visitatori dalla penisola e anche stranieri, grazie all'aeroporto e alle crociere che nel post-covid hanno ripreso a sbarcare passeggeri nel porto di Via Roma. La conferma arriva dallo studio di Conf Commercio che ha analizzato 120 comuni italiani medio grandi. Prendendo in considerazione il 2019 e il 2022, periodi in cui la pandemia non era presente o appena superata, il commercio al dettaglio a Cagliari è passato da 703 a 667 attività lo scorso anno. Mentre se prima dell'emergenza sanitaria si contavano 521 alberghi, bar e ristoranti, nel 2022 sono invece 546. Non freddi i numeri, ma testimonianza reale di quanto tutte le attività legate al settore turistico crescano. Motore trainante della città. Uno studio proprio del 2023 di Conf Commercio che prende in esame 110 città con un centro storico sviluppato come quello di Cagliari, sotto analisi i dati ci danno dal 2019 al 2022 una crescita di tutto quello che è il comparto turistico. Quindi abbiamo tutto quello che è il settore dei pubblici esercizi, degli alberghi e del ricettivo, con una crescita anche di diverse unità. Mi sembra che di bar e ristoranti parliamo di 20 unità in più addirittura. Sicuramente è un qualcosa che analizza e dimostra che Cagliari sta lentamente andando in quella direzione che tutti quanti continuiamo a dire, è quindi un commercio importante, ma soprattutto un turismo che dà vitalità e che traina tutto il resto delle attività. Di Cagliari piacciono il mare, la cultura, il poeto e gli spazi verdi. Storia, memoria di antiche civiltà e poi la spiaggia, il sole, panorami incantevoli tra palme e iacarande, qualità della vita certificata a livello nazionale, collegamenti con porti e aeroporti per le principali destinazioni europee e ancora intrattenimento, vita notturna, insomma tante cose da fare e da vedere. Cagliari è così diventato una destinazione top, con boom di arrivi e presenze. Sono tante le realtà croceristiche che stanno investendo sempre di più su Cagliari, ma si parla di investimenti anche di armatori che iniziano a vedere per quanto riguarda il parcheggio dei propri mezzi, del yacht piuttosto che il turismo di Porto, si ha questa realtà che comunque inizia a dare un carattere sempre più marcato in quello che è il futuro di Cagliari e dove poi a tiro tante altre realtà andranno a investire su quello che è un segnale sempre più forte. Ricordiamoci che usciamo fuori dalla pandemia, un periodo in cui sicuramente in pochi volevano procedere verso i propri investimenti e avere questa differenziazione tra il 2019, che è sicuramente l'anno da prendere in considerazione, e il 2022, anno della normalizzazione, siamo più che positivi in quello che sarà sicuramente una crescita di Cagliari dal punto di vista turistico. Aggiungo a questo, domani è il B&B Day, Bed and Breakfast Day, stavamo facendo una ricerca, vi manderemo un servizio appunto domani nel nostro magazine, la maggior parte dei Bed and Breakfast che hanno aderito a questa iniziativa sono sold out. Turismo ancora con una visione diversa, il turismo religioso, la scoperta, la valorizzazione dei luoghi, una scommessa, una sfida che la Regione Sardegna insieme a tanti altri partner hanno ampiamente vinto, a questo proposito la Sardegna che appunto vince su questo tavolo del turismo religioso, questo nuovo segmento, itinerari spirituali, valorizzazione dei territori, luoghi, dal 24 al 28 marzo parteciperà alla 19esima edizione della Fiera del Turismo esperienziale, sostenibile in particolare dei cammini e delle destinazioni itinerari spirituali che ha un nome molto particolare, fa la cosa giusta. Vediamo. Noi camminiamo in Sardegna, una realtà, sostanza e forma, forma e sostanza di turismo nuovo, quello dei cammini, dei luoghi di pellegrinaggio e degli itinerari spirituali. L'intuizione di scommettere su questa frontiera che unisce fede, luoghi, luoghi e fede, valorizzazione e promozione del territorio, il nostro, con la scoperta o riscoperta del sontuoso patrimonio culturale architettonico della Sardegna. Continua dunque. Perché abbiamo fatto passi da gigante? Perché abbiamo fatto ciò che deve essere fatto, puntare su un'offerta turistica diversa, puntare su ciò che altre nazioni o altre regioni hanno, sono più avanti di noi. Ma noi in modo umile e semplice siamo andati a chiedere come funzionavano i cammini in tutto il mondo. Quindi oggi questa offerta che siamo pronti a dare e offrire ci darà un grande risultato di entrata economica per il bene a Sardegna e un'altra offerta turistica che mancava. Quindi il turismo religioso, il turismo esperienziale ma quello spirituale è una forma di offerta turistica molto, molto richiesta. E sarà sempre in crescita. La Sardegna non poteva mancare. Quindi sono contento che in questi quattro anni ho rispolverato un progetto fermo nel cassetto dal 2012 e l'ho portato a questi livelli con grandi miglioramenti, con grandi passi in avanti. A questo aggiungiamo la partecipazione alla diciannovesima edizione del Fa la cosa giusta fiera del turismo sostenibile e in particolare della promozione dei cammini e delle destinazioni itinerari spirituali che si terrà a Milano a fine mese. La bontà di questo progetto è valorizzare l'interno della Sardegna, andare oltre il mare una Sardegna che possa vivere tutto l'anno grazie anche al turismo esperienziale ma soprattutto grazie al turismo religioso e spirituale. Un lavoro corale è quello del progetto Noi camminiamo in Sardegna, un patto con i comuni, 23 sindaci coinvolti e poi il patto con la conferenza episcopale Sarda e ancora la formazione e l'occhio di chi nei e dei territori coinvolti sa tutto, le guide escursionistiche. I cammini religiosi sono molto importanti soprattutto per le credenze che abbiamo noi Sardi, quindi quelle persone, quelle figure che io parlo da Orogolese, quindi parlo della beata Antonia Mesina che è quella santa paragonata a Maria Guretti, ma oggi noi la vediamo anche come quella santa che parla un pochettino anche di quello che è l'attualità, la violenza contro le donne, quella cosa che già dagli inizi del secolo scorso non è cambiato, quindi diciamo che è sempre attualità. Che cammino sia allora in Sardegna. A questo aggiungiamo anche il turismo dei novenari, ovvero quelle persone che si riuniscono nove prima di una festa importante dedicata magari al patrono del paese. Turismo, street art, l'arte di strana, manu, invisible o invisible, fate voi, incontrano i ragazzi, i bambini, i sindaci per parlare attraverso i colori, i graffiti e qualche messaggio subliminale, incontrano l'arte insomma. Vediamo. A Villa Speciosa l'arte, quella di strada, incontra il sociale ma senza rinunciare alle tradizioni, agli usi e ai costumi della comunità. Il piccolo centro del basso Campidano, ad appena 20 chilometri da Cagliari, si candida così a diventare capitale Sard della street art, grazie alle opere di Manu Invisibile e Pils che hanno realizzato due nuovi murales in aggiunta ai cinque già presenti in paese. Abbiamo voluto puntare su due aspetti, tradizioni e sicurezza stradale. Le opere d'arte realizzate dai due rinomati street artist sono state presentate agli alunni delle scuole medie di Villa Speciosa. Un percorso di educazione civica che si snoda per le vie del paese dove campeggia in pieno centro, il mural è realizzato da Manu Invisibile, 80 metri quadri dipinti su un edificio privato dal titolo Salvezza, una moderna dea greca che vuole sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità all'interno dell'abitato. Il limite di chilometri orari è 30 chilometri orari, io l'ho utilizzato come cartello stradale per porre un'aureola classica, classicheggiante a quella che è poi una scultura classica, sostanzialmente un po' reinterpretata e rivisitata in chiave contemporanea, ossia il manichino di un crash test che ha un volto, una bellezza classica idealizzata e che ha nella mano destra una macchina giocattolo per non dimenticarci che stare alla guida non è assolutamente un gioco. E appena a qualche metro più in là, a fare da deterrente per quanti pigiano eccessivamente il pedale sull'acceleratore, un finto autovelox che porta sempre la firma di Manu Invisibile. Sicuramente è stato un gioco, sempre per ricordarci che stare alla guida è una cosa seria, soprattutto se si parla in termini di vita. Qua abbiamo sicuramente un precedente di vari anni fa, di morti e vorrei che attraverso questa sensibilizzazione non rinciampiamo sugli errori passati. Un rilevatore di velocità dipinto, ma non per questo meno efficace nell'indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di 30 km orari per salvaguardare i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza. Il senso è lanciare un segnale, l'abbiamo posizionato a 100 metri dall'opera di Manu per dire c'è già un autovelox, rallenta, guarda di fronte e vedi l'opera reale che è quella con la parola salvezza. È stato un modo, e ringrazio per questo Manu, per comunicare un aspetto per noi fondamentale e importante. Preferiremo avere un dosso in meno e un cittadino in più che rispetta i limiti e va in una maniera corretta rispettando i pedoni. Più legata alla tradizione locale è invece l'opera di Davide Piloni in arte Pils, che ha dato colore e gioia ad un muro della piazza accanto al municipio, restituendo in 40 metri quadri l'essenza della festa di San Platano, uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Villa Speciosa. La mia poetica si esprime spesso nel raccontare questo tipo di storie. È stato divertente e coinvolgente poter avere questa nuova opportunità di raccontare la comunità nella sua identità più pura. L'opera di Pils in particolare è stata realizzata anche grazie al finanziamento da parte dell'Unione dei Comuni, Monte Ida e Fanaris, nel programma Vivere la Terra. Iniziative importanti, iniziative di comunità, iniziative di unione. Il percorso continuerà con il nuovo progetto finanziato Vivere la Terra per il 2023 e sarà un momento importante, nuovo per tutti i territori, per continuare questo percorso visivo. Bene, io termino qua, vi do appunto a vendere le prossime edizioni con il nostro Magazine. Grazie. Grazie.